Anche in questo l'abbiamo di cercare, però diciamo che alla testa di peci, a Napoli, era molto difficile, quindi qua la posta di Pasquia, in cui dopo il pece, nella testa di Puglia, nel caso di Puglia, un centro è naturalmente meraviglioso, e così è un gradante della parte che si operava, e si potrebbero un'area, e la pulmona, e si potrebbe essere un gradante La bellezza di questo ambiente, che è naturalmente un valoreo, è un convegno di architettoni di scultura, che da 500 arrivano a 700. E' bellissimo anche perché l'alternanza crea un movimento. E' un po' di schiavi, anche, che sono un po' di schiazza, che vengono spavate, che vengono spavate, che sono un po' di schiavi, che sono un po' di schiavi, e poi, dalle manchie, la... ...dell'ambito della costeria, quindi, la mia cosa che era, è stato un grande artista, col tempo, che aveva dei miei libri, che aveva un mondo un po' alto, come Canello e Zaglia, così le riferavano, secondo me, tutte le prese. E... Però, per esempio, ha fatto un po' di schiavi, questo è un pubblico conoscentesco, per il mio periodo, l'anno femmini è un po' di schiavi, che ha fatto un po' di schiavi, il suo lavoro è un po' di gennaz, che ha visto... Grazie. Scusami. Scusami. Scusami.